Benvenuti al mio canale di cucina Oggi preparerò una fettata al forno con gli asparagi velocissima e buonissima Dopo aver lavato e pulito gli asparagi tagliate le rondelle poi sbattete 6 o 7 uova con un pizzico di sale un pizzico di pepe due cucchiai di parmigiano un mazzetto di menta tritata a coltello versare in una teglia ricoperta da carta da forno e coprire con delle fette di fontina disponete gli asparagi ad orologio e poi cuocete a forno caldo statico a 180 gradi per 15 minuti grazie per aver visto il video se vi è piaciuta questa video ricetta mettete un like iscrivetevi al mio canale di cucina se non l'avete ancora fatto e commentate e condividete i miei video ciao ciao a presto da Gianni vi aspetto alla mia prossima video ricetta ciao a presto ciao a presto ciao a presto ciao a presto ciao a presto